Grazie a tutti Grazie a tutti. La follia è la conseguenza logica di una situazione assolutamente fuori controllo e quindi chiunque può prendere un'arma e sparare anche contro persone inermi, quindi non è un errore di comunicazione. Quello di sera è stato un assassino, l'abbiamo scritto sulla prima pagina del giornale di oggi.